La Turris formato trasferta chiude la pratica vibonese segnando tre gol già nei primi 20 minuti con una prestazione audace e cinica mettendo la partita in discesa e portando a casa il bottino dei tre punti con risultato finale di 4-1. I Coralini partono forte al dodicesimo è già vantaggio, azione Leonetti Varutti con quest'ultimo che mette una palla nel mezzo che colpisce il braccio di un difensore, rigore con il capitano Coralino Giannone che dal dischetto batte Marson. Al diciassettesimo minuto Tascone per Varutti che mette in mezzo un pallone teso sul primo palo, Santaniello disturbato da un difensore vibonese non riesce ad impattare la palla che colpisce il corpo dello sfortunato difensore Vergara ed è autorete 0-2. Ventesimo minuto corner dalla destra per la Turris, Franco vince un duello aerea e rimette palla in aria con l'attaccante Leonetti l'esto a ribadire in rete da pochi passi, la rete dello 0-3. Coralini in totale controllo. Nella ripresa l'allenatore della vibonese D'Agostino opta per un doppio cambio e con un assetto più offensivo, ma solo al sessantatresimo minuto i padroni di casa accorciano le distanze con Mauceri, bravo a mettere alle spalle di Abagnale un cross di Senesi, abile a superare in uno contro uno il suo diretto avversario. Mister Caneo mette la partita in ghiaccio effettuando un doppio cambio e passando al 3-5-2 comprendo bene il campo, gestendo la partita e infilando dei minuti di recupero proprio con il neoentrato Loreto, abile a scattare ed infilare con freddezza il potere calabrese per il definitivo 1-4. La Tourist tornerà in campo giovedì nel turno infrasettimanale in cui farà visita al Catania, con diretta visibile oltre che in streaming anche agli abbonati alla TV satellitare. Fischio d'inizio alle 14.30.